salve a tutti benvenuti su simulatour da balocco ed è mei che è sempre lui siamo tornati e siamo rispolverati rispolverati con una nuova serie di farming simulator 2000 quindi cazzo di gioco ha sbagliato no arriverà anche farming stavo scherzando comunque siamo qua con pes 2021 uscito da pochi giorni una settimana neanche siamo qui per portarvi la partita la nostra classica partita juventus cagliari con i sardi i fiamontesi contro i sardi che succede un bel pasticcio il regno di sardegna vecchie rivalità siamo qui per provarlo insieme a voi perché io ho solo provato così per vedere che funzionasse ha fatto la prova lui non l'ha ancora provato molto bello la grafica migliorata il commentatore si parla sempre devo parlare io e niente siamo qua volevo solo dire innanzitutto che in questa serie purtroppo ci ha abbandonato ragazzi no ragazzi mani di magnete mani magnete asibon bavo io ho provato a far possesso parla agli altri progettato al canale di valle ma parte sotto forte un'unico realistico ancora nei contrasti no aiutato 13 quando si stia si ho toccato si si adesso c'è questo non pensiamo più indietro lo vede lo vede scattare carlitos apache apache la salva apache per puntare sulla difesa carlitos valentino rossi secondo la ferrari scrauser mi dispiace un po' per la ferrari guardate che gol di testa guardatelo per un pelo di un pelo un po' ardo un pelo un po' ardo ma vabbè eser a più sui punti da due volte non mi ricordo qual è la prima ecco lo vede marchesio marchesio allora c'è marchi te lo ricordi che non poteva segnare perché c'è ragazzi forse è proprio il Cagliari ma poi ha segnato l'ultima partita questo vuol dire che questo vuol dire che marchesi tutto è possibile guardavo qua il capitano marchesi capitano lo messo io capitano contro il Cagliari eh fallo arbitro vai capitano tra sopra il Cagliari bravo 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 capitano il capitano è giallo è giallo è giallo è vero stuporato non te tutto bene tutto bene non guardiamo fallo perché dopo eh eh pirulo anch'io volevo un pirulo alla fine mi ha dato un bastone ma allora si continua eh non ho sbagliato metterlo non importa il barbo il barbo il barbo c'è sempre il barbo il barbo c'è sempre lui deve essere c'è uno dei vecchi della rosa vecchia della rosa vecchia rosa vecchia 200 anni l'uomo o come si chiama uomo al samo ah no al samo al samo ooo nooo 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 lo vedi dai che sta scattando perfetto dai la c'è il seno io ho mangiato attenzione il nostro capitano non si arrenderà mai sono mille mila anni che non dormo cos'era sta roba calcio spettacolo che cosa era calcio spettacolo stanotte ho dormito niente io no ho salvato il mondo ah bravo il tuo cuore non mi vero colpisce Gianluigi chi è cattirato è bello le stelle di barbo di barbo il sardu il sardu il sardu hai a paura del calcio d'angolo del maggio con le ma è scarso il 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 lo deve scattare attenzione rossetti il non è sbaglio il non so il 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 l'altro il l'altro l'altro gioco sul cagliari scusate io eri te è messo come punta lui lì davanti bel passaggio servito da carlitos ma fash io la passa il nostro amore la fascia e si prosegue cagliari tenterà la rimonta o si arregla impegnati e hanno trovato il vantaggio ora devono evitare la rimonta degli avversari e appunto dobbiamo evitare no ho sbagliato oh si danno al kung fu si danno al kung fu uuuu bello bello potevo fare in un altro modo la tocco ma ero troppo lunga ah un po' rallentino la mia impressione mi dà abituarmi opzione uuuu marchizio sempre lui madò marchizio sferra il gol non si passa più come dal 13 esatto la generosità che ha mostrato arriva gianluigi il centrocampo arriva a farla per il come se l'ha scosto di comunità guarda guarda come arriva marchizio si butta in scivolata che tiro la mancanza dei ragazzi si sente la mancanza dei ragazzi si sente il nuovo gioco molto più reale perchè comunque questi tocchi erano impossibili da fare nei vecchi pass sta miglior ah che si può fare quando abbiamo fatto un giochi capitano il capitano ci sta bellissimo gol del capitano si può vivere e procediamo con il secondo tempo un secondo tempo che deve essere rimonta per il Cagliari un come si può dire un sfuggita per la Juventus ma tutto si deciderà nel corso di questi ultimi 45 minuti ok ovviamente cioè si sa che la Juventus di confronto Cagliari è più forte però qua conta più uh marchizio no ci fanno solo gioco no è la Llorente Vidal mi fa portiere ciò mi pare io mi pare io di solito così poi attenzione pirlo 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 ci sa fare Vidal Vidal ci provo ho notato adesso che ci sono fabbicaressa ma gli sono entrato con i ginocchi in faccia ma vabbè hai notato adesso che c'è? fabbicaressa? lo so ah si sto caressa vogliamo un guido meta ma cosa che tocco ma peccato che state intercettate il giro effetto posso posso Gianluigi spinge madone il palo è meritato credo fosse meritato no meritato no perché ho fatto tutto io però il palo il palo regala un bellissimo gol al Cagliari finalmente il primo il primo devono fare l'esecuzione del gesto tecnico posso ma chiuso che vuole prendere il rosso ma riceve in zona pericolosa guadagnamenti no no fermatelo no che Silvio c'è no allora non è il Milan speriamo per lui che non si debba mentire vedete dove va a scattare oh ma come esce ma non gli ho detto niente no no niente niente oh 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 il gol 3 a 1 e la juventus è ufficialmente la partita qua a meno che guarda non c'è proprio una rimota da Cagliari è un miracolo solo un miracolo questo comunque come prima partita senza averlo mai provato cosa puoi dire? no devo dire che mi piace è diverso si sente un po' la diversità dalla prima si vede un abisso c'è un abisso mi piace si è vicino la porta però veramente carino mi piace si che è da un da questo bell'aspetto che dà e tutto diciamo dall'aspetto grafico è bello mi piace si da quell'aspetto che mi serve troppo forte comunque bella partita eh ne faremo altre vi terremo aggiornati ne arriveranno molte altre arriveranno penso 12 partite nella serie eh è tutto questa comunque è stata una bella partita è andata comunque abbastanza bene devo dire che Iorente è stato il migliore in campo migliore di tutti bravo Iorente eh noi ci troviamo poi comunque su un'altra partita con altre squadre come sempre vediamo un po' cosa come giocare tutto molto probabilmente alla prossima partita io sarò col Sassuolo eh lui non lo so si vedrà si vedrà ci vediamo poi in una prossima partita da Balocco De Mei bella 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 bella